Buonasera, parleremo adesso di Sparta Giappone e dovrete fare dimostrazioni di due discipline attinenti. La prima è l'ialido e la seconda è il kento. E' entrambe sono discipline nate dalla necessità di appena rezzamorare all'uso della sparta giapponese, che è la crevata, una sciavola che beveva poco, del peso di circa un chilo, un chilo a mezzo, si usa a tre mani. La prima disciplina è l'ialido, che è una dimostrazione fatta dal maestro Sandri, quarto d'anni di alio. Consiste un deluso della spalla vera e ovviamente non c'è un avversario, ma si simulano delle situazioni di difesa. Si vedono delle figure, i kata, come linguaggio che ormai gli è familiare. In questo caso vedremo cinque kata. Due sono da seduto, e anche tre indietro, signor difesa da un avversario, due avversari, e in ultimo la difesa da quattro avversari. E' un discipline che richiede concentrazione e per questo vi chiederei fino alla fine di questa dimostrazione di mantenere un po' di silenzio. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti.